Dove, dove, dove? Ah, lì, ok. C'è un po' di gente. C'è tanta gente, eh. C'è veramente tanto. Vieni a puntino giallo, vieni a puntino giallo, non andare... Ah, ok. Vengo anch'io nella casa dove sei anche tu. C'è un tipo che sta venendo. C'è un tipo che sta venendo. C'è un tipo che sta venendo. E anche io. È forte il nostro compagno. No, il pompa dallo a me, amico. Dai, per favore. Hai trovato un'arma? Io ho solo un'arma col mirino, eh. Aiuto, aiuto, aiuto. Ho tirato! Vieni da me. Quanta roba che aveva. Allora. Allora. Aspetta. Allora. Fammi prendere lo scudo grande e io ti do lo scudo piccolo, tieni. Perché io, in teoria, ho 18 di vita più 50 di scudo. Andiamo dal nostro alleato. 155 di scudo. 155 di scudo. 155 di scudo. C'è una metallenza bianca, una pistola bianca. Un pompa, prendilo. Un pompa. Un pompa. Un pompa. Eliminato. AR. Ma R. Prendi qui, prendi. Ho preso il cecchino, vieni che te lo do. Vieni qua, prendilo. Grazie. Due chili, eh. Sono arrivato io cazzutissimo e l'ho ucciso. Io sono un pompa. Mi serve uno delle bende, amico, eh. Ecco, grazie. Mi ha dato delle bende. Ce ne ho sei, eh. Un po' te ne do te. Stai attento in giro, eh. Quante? Non ciò è una. A due, a due, a due, vabbè. Ecco, allora. Prendila. Aspetta. Aspetta. Ok, vieni. Fucine da caccia! Ho zero colpi, me ne dai un po'? Sì. Chi è? Chi è che ha sparato? Chi è che ha sparato? È tutto, aiuto. Ho bisogno di aiuto. Siamo qui sopra. Guarda, ti va al cecchino. Mi servono colpi del cecchino. Ce l'ho già, comunque. Ma chi è che ha sparato? Io no. Sì, c'è una finitura del portale. Vieni qua, vieni da noi. Che scappiamo. Vieni. Ecco. Allora, quando lui vedi che c'ha in mano quella roba lì, dobbiamo stare in parte a lui. E c'è un'arma viola. Guarda, mi hanno sparato, mi hanno sparato, mi hanno sparato. Da dove? Ho visto, ho visto. Non ho materiali. C'hanno lanciarazzi. A terra uno, eh, vabbè, non mi hanno attirato e sono in due, no. Sono otto. Sì. No, avanti pietà. Undicesimi. È la fonte, è la fonte del suo compagno. Sì, abbandonano, ne facciamo l'ultima. Abbiamo un tempo per... Non c'è tutto che è rossa, ma non è inutiliato. Il nostro record di kill nostro è il 16, con altri 4. Abbiamo... Ok. L'ultima partita, questa però si deve spaccare tutto. Mi posso accadere 13 minuti. Ah. Boh, allora facciamo 13 minuti, tanto qui è da 5 minuti che registriamo. Sì, io voglio. Partita carichissima, 2 kill, eh, bellissima. No, ma... Sai, uno con me l'ho killato, perché io avevo solo un'arma col mirino. Allora io miravo e sparavo a caso, e l'ho colpito e l'ho ucciso così. Quello lì non sa... Sì, avevo tipo 18 di vita, ma quello lì come faceva a non beccarmi? Lui aveva il fucile a pompa, mi faceva un edice, o te morivo. Deltro a volte ci sono quelli con le skin belle che fanno cagare proprio... Fanno cagare... Sì. Quella... Perché ha la skin quella nuova. Perché io quando vedo la skin... Punti anche tu, il deserto. Vediamo dove ci puntano. L'hanno delle tali? Sì. Buttati nella stessa casa in cui ci sono io, ok? Quella puntinata di giallo dovrebbe essere, sì. Uno c'ha una skin di quella nuova, quella tipo che c'ha... Che sopra un lama. Boh. No, vai nella casa. Quella... L'unica casa che c'è. Non quella puntinata di giallo. Allora, questo me lo prendo io. Vai giù. Oh, non ho un'arma. Ho due succhi succosi. Ok, qui c'è... Una cesta. Ho un lancio a granate. E ho anche tre granate. Oh, ho le doppie pistole. Guarda, vieni che ti do almeno lo scudo. Vieni, stai fermo. Stai fermo. Sono anche inserito. Di un niente pure. Che arma hai? Ciao, un po' mascheroso. Bianca, pistola, bianca e... Mi dai, ma hai pompa. Io ti do l'ancio a granate. Ma io non so usare la roba, dai. No, l'ha preso lui. Ecco. Prendi. No, l'ha preso lui. No, sto per prendere uno scalo leggendario. Ecco, ho trovato il pompa forte. Cioè, no, proprio forte. Vieni dove siamo noi. Dove sono io. E ti do il pompa con lo scalo che avevi tu prima. No, lì. Guardalo lì per terra. L'hai preso? Sì. Non sai. Sì. Ok, mi stanno seguendo. Sono di nuovo io il capo. Mi hanno promosso capo. Del gruppo. Minchia. Oh, una R verde. Poi c'è da salto. Ti do una doppia pistola. Prendila, prendila. Ok, torniamo indietro. Ma rompi altre rocce, se no i materiali non arriveranno mai. Andiamo dagli altri. Siamo tutti qui, eh. Dove non cercare anche altre A. Cioè, io ho un pompa scrauso, però è verde. Quindi va bene. Io ho... Un... Sono... Allora, ho un po' di poca, ho... Dezio pistola. Eh, guarda che sono fortissime. Cioè, anch'io se lo trovo, te lo... Io ce l'ho un R verde. Anderò. Qui c'è già stato qualcuno. Eh, vieni, vieni. Guarda! Guarda, lo so. Cosa? Dai! No, dai, guarda, vieni, guarda. Ti do la R verde. Se fossi, c'è il film o la R? Lì, gra... No, tagliate, tagliate. Dai, prima che lo prendano. Grazie. E' una persona gentile. Ma che figlia ha facciato questo qua? Questo... Ma che figlia ha facciato questo qua? Ma che figlia ha facciato questo qua? Ma non c'è lo scalo, sto qua. Ah, un vampa, ma no. Doppi pistole viola, le prendo io. Sto qua ha già... Sto qua ha la doppietta. Sto qua ha la doppietta. Sto qua ha la doppietta. L'ho atterrato, l'ho atterrato uno. Io ho uno l'eliminato. Sto qua, aiuto, aiuto, aiuto. E non riesco a dare... Lo sto cercando di... E' l'ultimo rimasto, quello che ti ha ucciso. Oh, guarda che... Mi stai guardando, bravo. Sì, ho sei colpi dello scar. Ma no, sì. Mi stai guardando adesso, sai? Ah. Mi sono le mezza. Vai. Vincerò questa partita per te. Io voglio vedere te lo amassi. Sì. Sì. Ma che lascio lo scambio a cittàio? Ho sei colpi? No, 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 no. Sei mezzo, sei. Sono nella M. Ma ho vinto questa partita, eh. Sì, ho fatto una kill. Ma è un video, eh. Mi metterò su, lo vado, eh. Sì. Non mi posso fermare. Ho anche un botto di materiali, ho preso i tuoi. Io stavo per ammazzarlo, solo che si è fatta tutta la costruzione e poi intanto sei morto. Aveva 106 sta qua, ci stavamo morto di volta. Certo. Sì. Sì, cercherò di vincere la partita per te. Ciao. Alle due allora. Ciao. Ciao. Sì. Alle due ricordatevi. Cioè, sto ancora riprendendo, finisco qui la partita e... Sì. Pochissimi colpi delle armi più forti che ho. Ciao. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok?